Buona serata da prealpina.it. I grandi comuni si stanno organizzando per accogliere profughi in arrivo dall'Ucraina in guerra. Varese si prepara attivando una rete con le realtà già presenti sul territorio, sapendo che si prospetta un'accoglienza a medio-lungo termine, soprattutto per donne e bambini. In attesa delle direttive del governo si stanno considerando tutti gli aspetti, dai bisogni primari come cibo e alloggi, ad altri come l'aspetto linguistico e scolastico. Bussarsizio è pronta ad accogliere 30 persone. I legami nati da anni con l'accoglienza dei bimbi della zona di Chernobyl hanno permesso di attivare una rete solidale e il comune si è dato da fare per mettere a disposizione la casa Don Lolo, con mini-alloggi adeguati a piccoli nuclei familiari. Intanto Don Giuseppe Tedesco, parroco di San Giuseppe, sta tornando dall'Ucraina con nove bimbi e una mamma. Quest'ultima aveva raggiunto Cracovia in treno con la figlia. Il gruppetto partito con un pulmino e un'auto da busto, già sulla strada del ritorno, questa mattina è tornato indietro verso la Polonia per recuperare entrambe. L'arrivo a busto è previsto in nottata. Vediamo intanto il servizio di Barbara Zanetti con immagini di agenzia Briz sulla raccolta di farmaci e cibo attivata a Varese. La signora Alina, proprietaria del Minimix, un negozio di prodotti etnici e specializzati anche in prodotti ucraini e russi dell'Europa dell'Est, di via Medaglie d'Oro a Varese. Sono giorni difficili, state avviando una raccolta di aiuti per le popolazioni colpite dalla guerra. Di che cosa si tratta, signora? Allora, abbiamo avviato nei nostri negozi a Varese una raccolta di prodotti alimentari, vestiti, di prodotti di prima necessità per i bambini, per adulti, specialmente medicinali, che servono molto adesso in Ucraina. Chi può, chi ha possibilità di portare qualcosa, anche finanziario abbiamo raccolta, anche di soldi, chi non può comprare qualcosa. Portate tutto al negozio a Varese via Medaglie d'Oro 37. Grazie mille a tutti per collaborazioni. Fino adesso ci sono state numerose offerte. Grazie mille a tutti. E restiamo nella pagina legata alla guerra in Ucraina. Nelle città del paese martoriato dall'attacco russo, le sirene suonano di frequente e la popolazione è costretta continuamente a rintanarsi nei bunker o nei sottoscala per cercare salvezza. Là sotto la vita è complicata, è difficile tenere tranquilli i bambini. Vediamo il servizio di Renata Manzoni con immagini che ci arrivano da Kiev. Siamo a Kherson, città di 289 mila abitanti dell'Ucraina meridionale, sotto assedio da parte delle bombe russe dal 24 febbraio scorso. Quella che vediamo è la casa di Alena, meglio il suo rifugio vicino all'abitazione. Alena è ucraina e vive a Gazada, ma in questo periodo è proprio lì, a Kherson, in Ucraina, nella sua casa di famiglia. E qui vediamo tutti i vicini che si rifugiano da lei non appena suona l'allarme e suona spesso durante la giornata. Lei li accoglie tutti e dà loro quello che ha per cercare di salvare la vita a tutti quelli che riescono ad accedervi di corsa scendendo quelle ripide scale. E cambiamo argomento. Dalla criminalità organizzata al trasporto di organi per salvare vite. È il cambio di marcia che effettua la Porsche Panamera, sequestrata alla mafia e assegnata a Regione Lombardia, che a sua volta la concederà in comodato gratuito ad Areu, l'Agenzia regionale per le emergenze e urgenze nel settore della sanità. La fuoriserie verrà consegnata domani. Il veicolo, che vale 100 mila euro, era stato sequestrato dal Tribunale di Milano. In un primo tempo era stata proposta l'assegnazione provvisoria al Consiglio regionale per le attività istituzionali. La Presidenza dell'Assemblea del Pirellone, ovvero Alessandro Fermi e la Vice Francesca Adrianza, hanno deciso, d'intesa col Direttore Generale di Areu, Alberto Zoli, di destinare l'auto a servizi sanitari e nello specifico al delicato trasporto degli organi destinati a persone in attesa di trapianto. Un modo per mettere le prestazioni del veicolo al servizio di chi attembe una speranza di nuova vita. E veniamo alla cronaca. La banda del buco si porta a casa un bottino di ben 10 mila euro. È successo l'altra notte a Parabiago, alla tabaccheria stazione in via Matteotti. I soliti ignoti hanno fatto danni in ben due attività. Sono entrati prima in uno studio legale che si trova a lato del negozio, penetrando da una finestra affacciata sulla strada. Una volta dentro hanno realizzato un buco nel muro, passando poi nella tabaccheria. Qui hanno prelevato ben 10 mila euro in sigarette. Sono stato qui fino a luna di notte. La scoperta è stata fatta stamattina, ha raccontato il titolare dell'esercizio. Tutto è avvenuto in piena notte. La cosa strana è che il buco è molto stretto e largo appena 43 per 33 centimetri. L'unica persona che può essere passata, dice, è qualcuno molto magro oppure un bambino. Al furto si aggiungono i danni per i lavori necessari a riparare la voragine. In gennaio gli incidenti sul lavoro in Lombardia sono aumentati del 74,8% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Rispetto al 2019, quindi pre-pandemia, l'aumento è pari al 40%. E' quanto emerge dalle elaborazioni condotte dal Dipartimento Salute e Sicurezza della Cisla Lombardia, sulla base degli ultimi dati forniti dall'Inail. Con la ripresa produttiva e dei servizi, gli infortuni aumentano anche oltre le possibili stime, sottolinea Pierluigi Rancati, segretario regionale di Cisla Lombardia. Nel gennaio 2022 gli incidenti sono stati 12.794 contro i 7.318 dell'anno precedente e 9.131 del 2019, quando ancora la pandemia non condizionava i ritmi delle attività produttive. Numeri, sottolinea il sindacato, che evidenziano una costante carenza di prevenzione con una insufficiente gestione dei rischi per mancata formazione e modalità lavorative sempre poco attente alla salute e alla sicurezza. Questa era l'ultima notizia, l'edizione di prealpina.it termina qui. Vi diamo appuntamento domani alle 13 e vi auguriamo buona serata.